Figli di puttana? Ghilios, guarda. Finché si tratta della gag, ma in Italia le mamme non si toccano. A me siete morti. Darò il massimo per potervi distruggere. Faccio fare la fine di un mozzicone di sigaretta, altro che fumarci. Vi pestiamo come le sigarette alla stazione del treno. Coglione. Non ti permette di nominare mia navola in vano. Allora, non bandiamo nessuno. Sapete chi è? Nessuno. La persona di cui ho paura. Ti spacco, coglione. Allora, Blitzcrank. Vai, vai. Con Gianna, minchia, stiamo farmando gli LP, veramente. O comunque, secondo me, con Gianna, Blitzcrank, Rakan e Nautilus faccio 1v9. Quindi, basta che gioco questi campioni. 2 li giocherò di sicuro, o no? Tipo, contro questa roba, gioco le reali, sa. Posso blindare giocando adesso, cringe. Prendiamo Midlane, no? C'è Ghilio su Discord. Su quale è Discord? Ghilio su Discord. Ah, io devo installare Tournament Realme. Forse ce l'ho già. Non posso giocare Gianna qua? Ehi, grazie. Ehi, grazie. Giocano Senna Brand. Brand Pike. Fragola acquittato, ragazzi, sì. Punto scadativo Fragola. Fragola. Jax è la scelta migliore, vabbè. Chi viene al posto suo? Mattac S. Ha fatto molto bene all'ultima BCS, ha cambiato testa e... su un'altra match, secondo me. Vagamente bravo. Ma sai che altrimenti quando avete spaccato di nuovo con Senna il coach di nuovo era Cristo? Sì? Ma Senna, ragazzi, è un campione. Non c'è nessuno di più intelligente che abbia mai conosciuto di Senna. È la persona più intelligente con cui abbia mai intrattenuto più di dieci minuti di chiacchiere. Kaya pure è molto intelligente, ma Senna secondo me di più. Senna è autistico forte. Senna è l'autismo. Immagina senza la barriera linguistica. Vero. Vero. Mentre su LOL. No, no. Anche su LOL, ma in generale, nella vita. Io gli davo un problema, gli davo il 10% del problema, lui trovava la soluzione. Incredibile, davvero. Samu, te la faccio dopo, scusami. Che cos'hai trovata l'autorazione? Ma fammi anche vedere qua che scavo. Mauro si chiama questo. Grande Mauro. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Bene. No. Ma io giocherei qua. Quanto agito si invada? Sarà qua. Ha perso il carretto. Ah, l'ha preso che cuore. Io ricollerei ragazzi. Faccio le scarpe e ricollo. Non ti farà ammazzare. Buongiorno. Buongiorno. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Probabilmente. E' un'altra cosa. 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 E' morto. Lui non muore. Lui non muore. Non mi è vero. E' un'altra cosa. Va bene va bene Era inutilmente forzato Dobbiamo giocare bot e basta Oh stop Ah no lo stop Quello si sta succedendo Cosa Si arrabbierà Non si arrabbia Non è manco così grave Su questa gianna Vado a rubare le guild Secondo me qui c'è Pike No Brand muore Muoio Oddio non mi levano danno Cazzo Minchia è salvato Faccio le swiftness Ricollo subito C'abbiamo la quest in base C'abbiamo Poco mana Via via Siamo più forti Lore secondo me Magal'e adesso Sto facendo molto molto bene Top Ok. Eh io non c'ho. Magari è bene in cui ci muove, però qua è agri schioso ragazzi. Muoio? Probabilmente sì, ma è Worf? Non lo so, non devo adancarmi forse tutto quanto. Ok. 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 la difesa mi vuole non muoio ma vinci vinci oh god qua vorrei regolare con più soldi 3.5 G più 4 G non ce l'abbiamo non è male buon trade a perdere solo l'ultima quello mi vuole uccidere l'ultima io non muoio il fatto che nemmeno me l'aspettavo godo? non godo ragazzi l'ultima muoio devo andare top? no 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 godo mi ha manco rubato il camp 60 gol fatta ma non muoio ma non muoio ma non muoio quello può morire questa è la gran world ragazzi anche questa oh io io ho entrato il tizio mi ha preso pure tutte le informazioni della pazza giungla qui eh sanno di me ma che troppo ma se muoio a brand può essere stai attento non posso più giocare qua hai cadato le bot possiamo andare a perdere un altro po' di meno va vince il mio? può essere sai ah che true muoio il tonno è buono muore pure l'altro ha il flash oh no agree philz badman c'è abbiamo hash che è enorme hash john è molto forte oh spero mi salvasse invece no comunque dovrebbe vincere ma malissimo tranquilli proprio anche quando tanca quelli giocheranno a bard lake o 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 potevo morire li stiamo spaccando volevo prendere quello ci dovrebbe essere velvet qua uno vio mi ammazza l'ha già preso ma sarà nella mia giungla quella sta giocando frago la gameplay io mi faccio anche ingaggiare non è un problema bene bene giochiamo per questo faccio io voglio giocare per questo vision io ne metto stavorda sai che io ne metto dai questo è proprio preziosissimo dice che è morto ho gridato per il flash ma comunque è pintissima tira tira ragazzi ti me la gesti io va e ci vedo la valore quando morire maires che è vero baron Mamma mia Mi fa danza Ma posso fare Cercare con la ground Questa gran ward Levo, levo Sbagliato Non è grande Io potrei giocare qua Non muore Ah muore Comunque oggi ho chiedato il flash 6 volt Non muore Sbagliato non muore Raggedia Ultire La cringe Ragazzi Ma posso? Sto trollando Questa è stata di Vekamorte La Polken Io non muore Oh merda Non avevo capito da là Questo è un dash Non è un problema Ora è un problema Ora ho provato a flash Però sto facendo troppo il bullet Sono pure un po' stanco Vaffanculo Com'è? È una buona call? Sì Occhio al Baron Occhio al Baron Occhio al Baron call Grae Stregol ha detto Guarda c'è il TP L'ho one shot Vince? No Se quello ultava Andava in pozza Forse vincevamo pure Niente Oggi così Ah Va bene Va bene Non ci sgridiamo Per l'altro devo farmi una zona Come primo item Ho trovato la build Prima per Baron Vision Finché tozza Guardiamo grave Non mora Non moro Non moro Non moro Non moro Grazie. Porco due li vuoi ammazzare, cazzo. Grazie. 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 Gioiamo a partire Drake, dai, abbiamo partito anche il bot. Qui c'è pari Non muoio Muoio Vincere? Ho vinto o pari del game? Gran bait ragazzi Gran bait Occhio Fa male Occhio fa male Asce slow Occhio fa male Occhio Facciamo a casa pure questo ragazzi Dai Questa è stata pure più sporca come partita Ma non mi sgriderò Tieni la musica alta Paolo Eh? Tieni la musica alta Ok Buongiorno Ah sta con la musica a mille Non ci sento nemmeno We're vibing No no Paolo Non farlo vedere assolutamente Il Ti vedo bello carico Paolo Oggi Sì? Bella Come stai? Tutto bene Tutto bene Non abbiamo fatto una chiacchierata però Eh Immaginavo Immaginavo Effettivamente non ti ho chiamato Né tu mi hai chiamato Quindi non l'abbiamo fatta